Cari amici delle api, buongiorno. Oggi è il 29 di dicembre, siamo in Liguria a breve distanza dal mare. La temperatura è veramente eccezionale in questo momento. Ci sono 13 gradi e sono le 16 e 30. Fino a mezz'oretta fa con il sole eravamo sopra i 16 gradi, quindi decisamente un tempo meraviglioso. Siamo venuti qui nell'apiario del mare perché abbiamo creato una postazione, diciamo così, temporanea per i nuclei che sono arrivati a sorpresa verso la fine dell'estate e non avevamo il tempo per preparare una collocazione anche perché pensavamo di spostarli altrove. Quindi li prepariamo qua e poi appena la stagione sarà migliore, sarà buona, li trasferiremo nell'apiario di montagna per vedere, diciamo, di incrementare la produzione da su. Guardiamo un attimino. E voilà, come avete visto, abbiamo creato due piedistalli fatti con i cubi di cemento di quelli 50x20x12 e dei tubi innocenti. In questo modo i nuclei che sono dentro un portasciami e una casetta da sei telaini possono stare più tranquilli perché prima la sistemazione, come vedete, era decisamente precaria. Ok, quindi questa l'abbiamo fatta, le temperature sono ottime, direi che la situazione è positiva, speriamo bene, speriamo bene. Quindi io vi saluto, vi do anche, gli faccio anche gli auguri per il capodanno, visto che siamo al 29 di dicembre, qui dalla Liguria le temperature sono ottime, tanti saluti e tanti auguri dagli amici delle api, dall'apicoltore della domenica e dai nuclei che ora forse hanno una sistemazione un pochino meno precaria. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, è completamente gratis, non pretendo ovviamente di insegnare niente a nessuno, anzi lo scopo è quello di fare un video diario per raccontare quello che faccio e avere la possibilità di ricevere dei commenti che potete lasciare qua sotto, che possono essere positivi se sto facendo le cose come si deve, oppure negativi se sto facendo qualcosa che non va e potete lasciare anche dei consigli, io non mi offendo. Le povere apine le abbiamo spostate di una cinquantina di centimetri, forse anche qualcosina di più e queste qua sono un pochino più in difficoltà. Speriamo bene, ma adesso l'ora è tarda, quindi non dovrebbero esserci molte bottinatrici in giro. Arrivederci e buon anno!